Con la cerimonia di inaugurazione e l'accensione del tripode, hanno ufficialmente iniziato oggi i ventiquattresimi giochi olimpici invernali di Beijing 2022, sono 91 i paesi presenti, 2861 gli atleti in gara e 15 le discipline sportive in programma. Dopo il via ufficiale cominciano subito anche le gare di occhi su ghiaccio, pattinaggio di figura, salto con gli sci, sci alpino e slittino. Sono già cominciate da due giorni quelle di Carling che vede l'esordiente Italia già brillante dopo aver superato nell'ordine Stati Uniti, Svizzera, Norvegia e Repubblica Ceca in testa al gerone di qualificazione a punteggio pieno. Grazie per la visione!